Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi un breve video per parlare un pochino delle batterie di bluetti, un po' per cercare di capire come sono fatte, com'è la loro tecnologia, ed anche un pochino per chiarire alcuni dubbi che molti utilizzatori di bluetti hanno, o anche soprattutto per chi sta pensando di prendere un bluetti e allora le vie un po' confuse riguardo alle batterie da abbinare alla propria centrale. Qua oggi abbiamo due batterie differenti, le B300 e le B230. Parleremo brevemente anche delle B300S che sono praticamente quasi gemelle delle B300 ma in realtà anche lì ci sono delle sostanziali differenze che a breve andremo a vedere. Non ce l'ho qua fisicamente, ho avuto modo di testarla quindi ve ne posso parlare. Per prima cosa parliamo della tecnologia litio-ferrofosfato della quale vi ho già parlato in alcuni video in cui presentavo le centrali. La tecnologia litio-ferrofosfato è la migliore per quanto riguarda gli accumuli centrali domestici e per chi ha bisogno di utilizzare queste centrali quotidianamente perché sono le batterie che hanno la longevità maggiore attualmente. Litio-ferrofosfato sono batterie che rispetto alle nickel-ossido di cobalto manganese e iuni di litio hanno una densità energetica un pochino inferiore quindi a parità di performance. Abbiamo un pochino di peso in più con le litio-ferrofosfato ma sono le migliori in assoluto perché come vi dicevo garantiscono circa 3500 cicli di carica-scarica completa per poi passare all'80% della loro capacità ma soprattutto anche per un discorso di sicurezza. Sono estremamente sicure le litio-ferrofosfato. Vi invito a fare una ricerca di alcuni test distruttivi che ci sono qui su youtube e vedrete che perforando una batteria litio-ferrofosfato non succede assolutamente nulla fa un po' di fumo ma non fa delle fiammate delle vampate di calore delle esplosioni mentre con le nickel-ossido di cobalto manganese con le lignoni di litio si possono verificare esplosioni e incendi in caso di danneggiamento accidentale quindi anche da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Internamente come sono fatte queste batterie? Dobbiamo immaginare tutta una serie di cellette simili a questa, le classiche pile praticamente. Adesso non so esattamente la dimensione della pila che c'è all'interno però tutta una serie di pile collegate in serio in parallelo esattamente come quando andiamo a installare pannelli fotovoltaici e insieme a queste batterie poi c'è tutta una serie di apparati come BMS il battery management system che è quello che gestisce le batterie e tutti i vari sistemi di sicurezza contro cortocircuito sovraccarico e così via. Questo è per parlare brevemente delle batterie litio ferrofosfato. Queste batterie che cos'hanno in comune e che cos'hanno di diverso? In comune hanno sicuramente la tensione nominale che è di 51,2 volt sia che si tratti di B230 che di B300 o di B300S. La tensione nominale delle batterie è sempre quella, 51,2 volt. Qua abbiamo una capacità di 40 ampere ora o 2 kilowattora, qua invece abbiamo una capacità di 60 ampere ora o 3 kilowattora. Le B300S altrettanto hanno sempre 60 ampere ora o 3072 wattora o kilowattora, 3 kilowattora, in base a come preferite dirlo. Quindi ad occhio l'unica reale differenza è l'autonomia. Questa è un'autonomia inferiore rispetto a questa. In realtà non è solo l'autonomia perché le B300 sono in grado di erogare fino a 3 kilowatt di potenza nominale con AC300, mentre le B230 sono in grado di erogare, se non erro, 2,2 kilowatt con AC200max. Quindi oltre alla capacità c'è anche proprio lo spunto che sono in grado di erogare. Ora vi voglio elencare brevemente i migliori abbinamenti che potete fare con le B300, le B230, le B300S. Questi sono gli abbinamenti migliori. Tutto il resto diventa praticamente un riadattamento di centrali che non sono nate per supportare certe batterie, ok? Quindi noi AC300 lo possiamo usare tranquillamente con B300, fino a 4 B300, ma non possiamo usarlo con B230. AC500, che è la centrale che ho recensito recentemente, può utilizzare la bellezza di 8 B300S. È compatibile anche con B300, ma ne può usare solo 4. Questo cosa significa? Che anche AC500 è nato per essere utilizzato con le B300S. Può essere utilizzato anche con queste, ma sarebbe comunque un compromesso. Quindi se prendete una AC500, quello che vi consiglio, comprate le B300S. Con AC300 comprate le B300, perché costano un pochino meno rispetto alle B300S e AC300 non vi può dare più di 3 kW, mentre AC500 ve ne può dare fino a 5. potreste comprare le B300S con AC300 nel caso, in un futuro, vogliate fare l'upgrade ad AC500, allora vi potreste portare avanti. In caso contrario direi che vanno benissimo queste. Questo è il mio impianto che utilizzo quotidianamente, qui in byte è sempre acceso e funziona molto bene. Con AC200 Max, che non ho ancora avuto modo di recensire e testare, però AC200P, le batterie native sono le B230, quindi queste sono le ideali, le batterie ideali. Però AC200 Max funziona anche con B300. Cosa cambia? Che avranno le B300 una autonomia maggiore, ma di fatto non potrete sfruttare i 3 kW di potenza che possono erogare con AC300, ma potrete sfruttare i 2,2 kW di AC200 Max. Questi sono gli abbinamenti migliori, quelli che dovete prendere in considerazione. Poi c'è un accessorio che si chiama D050S che io non ho tra le mani, quindi non posso parlarne più di tanto, ma so che grazie a questo accessorio è possibile fare tutta una serie di cose, quindi anche fare un piccolo upgrade di centrali come AC200P e anche altre. Io ho avuto AC200P e durante i 6-7 mesi di utilizzo effettivamente a un certo punto sentivo la necessità di avere un'autonomia maggiore e avevo scoperto appunto questo accessorio che permette di avere un accumulo maggiore da parte. però sta di fatto che AC200P è nato come centrale senza possibilità di aggiungere batterie e quindi è sempre un compromesso poiché questa batteria non funziona simultaneamente alla centrale con AC200P ma va a caricare la centrale stessa. Invece queste due batterie vanno simultaneamente, si scaricano piano piano entrambe e presumo che anche su AC200 Max sia la stessa identica cosa facendolo viaggiare con questa B230. Le B300 oltretutto sono delle batterie che hanno anche una funzionalità in più cioè quella del poter essere ricaricate tramite pannello fotovoltaico. Queste batterie diciamo che sono già delle piccole centrali indipendenti poiché hanno anche delle uscite e degli ingressi quindi questa ha un regolatore di tensione MPPT in grado di supportare 12-60 volt quindi le B300 potreste iniziare ad acquistarle se non vi serve la 220 mi interessa solo avere la 12 volt potreste utilizzarle già come impianto indipendente e poi eventualmente fare un upgrade aggiungendo AC300. Cosa che non vale per B230 perché B230 per essere ricaricato tramite pannelli fotovoltaici ha bisogno di D050S che è questa specie di amplificatore di ricarica poiché qua la tensione deve entrare a 58,8 volt che presumo sia la tensione che è in grado di convertire di 0,50S. Le B300S sono esattamente uguali alle B300 come dimensione però possono erogare come vi dicevo fino a 5 kilowatt 4,5 se ne utilizziamo solo una con B500. Non so esattamente quale sia il trucchetto per fare ciò perché le batterie hanno la stessa identica dimensione quindi presumo che la cella sia differente la piletta che vi ho fatto vedere prima le B300S probabilmente hanno una maggiore densità energetica credo oppure ci sono delle file di pile collegate in parallelo in più ma mi sembra strano perché l'ingombro è sempre quello non so esattamente quale sia il meccanismo probabilmente è una cella differente e poi all'interno hanno anche delle serpentine che in caso di temperature estreme come meno 20 gradi si riscaldano permettendo il corretto funzionamento della centrale. Comunque adesso già che abbiamo una B230 tra le mani andiamo a vederla un pochino più da vicino diciamo che di B300 e B300S ne ho già parlato in altri video ho tra le mani una B230 andiamo a vederla un pochino nel dettaglio. Allora questa batteria pesa quasi 22 kg quindi decisamente più leggera rispetto alle B300 e B300S non abbiamo nulla su tre lati abbiamo tutto su questo lato cosa abbiamo su questo lato abbiamo il pulsante di accensione l'input per la ricarica a 58,8 volt 8 ampere quindi tramite il suo adattatore qua abbiamo la presa per la battery extension 51,2 volt quindi questo è per collegare il cavetto alla centrale alla c200 max abbiamo una presa per la continua a 12 volt 10 ampere una usb type c da 100 watt e una usb a da 18 watt questo pulsante di accensione abbiamo la possibilità di vedere lo stato di carica da questi piccoli led adesso siamo al 60 per cento e possiamo anche attivare vedete questo comparto 12 volt quindi possiamo attivarlo disattivarlo all'occorrenza adesso andiamo anche a fare un piccolo test facciamo girare un pochino il frigorifero con la presa da 12 volt ok ora andiamo a fare questo rapidissimo test solo per vedere se la batteria da sola è in grado di far funzionare il frigorifero colleghiamo il frigorifero non si accende accendiamo il suo comparto della 12 volt facciamo partire il frigorifero e vediamo che funziona tranquillamente quindi come vi dicevo le batterie di bluetti sono già delle centrali a parte quindi finché dovete usare solo la 12 volt possono essere utilizzate in modo indipendente altra cosa da dire riguardo il litio ferrofosfato che anche a livello ambientale sono quelle che dovrebbero essere un pochino più ecologiche e di facile smaltimento quindi c'è anche questa ulteriore caratteristica che ovviamente in un impianto che funziona con rinnovabili è molto importante di tutto l'impianto è forse la parte più costosa le batterie sono ancora abbastanza costose lo sappiamo benissimo i prezzi speriamo che in un futuro possano scendere con l'evoluzione tecnologica forse anche grazie alla maggiore domanda questo non lo possiamo sapere attualmente lo vedremo in futuro io l'unica cosa che posso fare posso provare a chiedere a bluetti di avere dei codici di sconto anche se sarà un po difficile però proverò a fare un po di pressione per farvi avere un pochino di sconto su tutte e tre le batterie B300, B300S e B230 ma ovviamente non garantisco comunque quando ci sono questo tipo di video guardate sempre in descrizione perché se c'è qualche codice sconto lo inserisco in descrizione penso che sia tutto non credo ci sia nient'altro da dire l'unica cosa che mi sento di consigliarvi mi raccomando se volete un sistema espandibile prendete subito un sistema espandibile che sia una C200 max una C300 una C500 e allora lì potrete avere un impianto molto più grosso partite con un impiantino piccolo e poi potrete piano piano aggiungere pezzi di autonomia al vostro corredo invece se non vi interessa che vi interessa solo avere una centrale portatile da utilizzare all'occorrenza allora potete tranquillamente prendere una C200 P una B70 tutte queste centrali di questo tipo piccole leggere affidabili e che vi servono magari soltanto per tirare il weekend ecco mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciatemi un like se avete dei dubbi approfittiamo di questo video e vi cercherò di rispondere ai vostri dubbi ovviamente vi consiglio anche c'è il gruppo facebook bluetti club italia vi consiglio anche di iscrivervi a quel gruppo perché lì ci sono delle discussioni molto più tecniche io purtroppo non posso stare dietro a tutti i commenti soprattutto quelli molto molto tecnici se le domande sono semplici io vi rispondo ma se mi chiedete di dimensionarvi l'impianto per casa vostra capite che io non posso sapere cosa va a casa vostra o spiegarvi da zero tutti i concetti quindi ripartite dal primo video sulle centrali che ho fatto e da lì sicuramente riuscirete a trovare tutti gli elementi che vi servono per comprendere il funzionamento e anche il dimensionamento dell'impianto che serve a voi ciao a tutti ci vediamo al prossimo video un saluto da Luca alla prossima